Morigno, qualificazione matematica, tanti gol segnati, belle notizie anche di Rissingoli, una serata perfetta. Sì, oggi era dentro-fuora, so che un pareggio lasciava le cose aperte, però adesso è dentro, siamo qualificati, ovviamente che finire secondo è diverso di finire primo, però qualificare e andare avanti è già qualcosa di positivo. Abbiamo giocato bene, abbiamo segnato, abbiamo vinto con tranquillità, con dei bel gol, con dei performance individuali molto positive, senza infortuni, tranquillo e bene. Tre attaccanti davanti, quasi in linea, uno Zagnolo soddisfatto del suo rientro. Zagnolo, Itami e dopo Sean Rodovi, Majoral e Felix a casa che non è iscritto in UEFA, lì non abbiamo dei problemi, abbiamo qualità, abbiamo qualità diverse, abbiamo opzioni, abbiamo giocatori in numeri, lì davanti non abbiamo problemi, abbiamo perso ovviamente un giocatore prodotto finito, top come Edin, però lì non posso piacere. A proposito di Ebram, ha affidato qualche gol, poi alla fine le ha regalato un gioiello, forse sembrava quasi stesse aspettando di sostituirlo per aspettare questo secondo gol, insomma. No, io credo che era per fare, Majoral era già preparato per entrare, però con il secondo gol è perfetto. Lui, insomma, ha regalato un pallone questa sera a Missouri? Certo, 17 anni, prima partita con la Roma, con la sua amata Roma, perché non è solo la Roma. Ieri pomeriggio sono andato io a scuola e l'ho trovato lì a scuola con gli altri ragazzini e oggi gioca nella prima squadra e non è solo per lui, è per lui e per tutti gli altri che erano lì a scuola con noi. Grazie, mister. Grazie a voi.